Come tutti i tecnici, anch'io avevo previsto la sconfitta di Amonti, anche se in cuor mio auguravo che la sconfitta fosse contenuta in altri termini. Amonti, come al solito, è lento a mettersi in azione, ma nella seconda ripresa iniziava con coraggio e decisione, colpendo l'avversario con colpi di grande potenza. Mecch anziché accusare i colpi, riveva come potete facilmente vedere. La situazione diventò drammatica quando all'uscita di uno scambio il sinistro di Mecch colpiva inesorabilmente a Amonti al mento. Cade al tappeto, l'arbitro lo ha contato. Monti si è alzato ed è ancora non completamente rimesso, ha preferito desistere alla lotta alzando il braccio in segno di resa. Mecch esultava di gioia alla maniera degli americani di colore, ha iniziato una seribanda di salti e capriole. Coraggio Monti, il nostro sport è fatto anche di queste cose brutte, l'importante è di avere la forza per risollevarsi e per questa non manca certamente.